Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui, sono molto felice di far parte di questa maratona. Saluto tutti i miei colleghi e niente, in questi giorni ho avuto del tempo per registrare delle cose, registrare dei brani che fra poco ascolteremo, ascolterete. Cerchiamo di amplificare un messaggio, se vogliamo possiamo aiutare la protezione civile. Aiutare la protezione civile significa aiutare noi stessi. E una delle cose più facili che possiamo fare è rimanere assolutamente a casa. Ecco, rimaniamo a casa. E dopodiché c'è la musica e quindi in questi prossimi dieci minuti, nei quali condivideremo musica, vi terrò compagnia io e poi ce ne saranno tanti altri. Quindi banto alle ciance, vi mando un abbraccio fortissimo e niente. Ciao. 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 Ci saranno dei miei amici che sono in bianere un pò sparpagliati quindi la tecnologia in questo caso ci aiuterà e mi aiuterà sono degli amici che sono a Londra in altre Regioni italiane si siamo uniti per fare questa cosa per tenervi compagnia in questi 10 minuti, quindi li saluto e li ringrazio e buon ascolto. In mezzo now, there's love streepin' flow, nine are just for some, the fear of everyone. Lord, we don't need another mountain, there are mountains in the hillsides, enough to climb. Lord, we don't need another mountain, there are mountains in the hillsides, enough to last, until the end of time. Until the end of time, what the world needs now is love, sweet love. Love is the only thing, that there's just too little love. What the world needs now, is love, sweet love. Not just for some, but for everyone, for everyone. Love is the only thing, that there are mountains in the hillsides, enough to last, until the end of time. Love is love. Love is love. I was born by the river in the little tent. Love is love. 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 It's been a long, 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 long time coming But I know a change gonna come Oh, yes, yes, it will I know a change gonna come Oh, yes, it will